Con un piccolo sforzo possiamo riuscire a contrastare l'inquinamento e il riscaldamento globale. Ognuno di noi, nelle attività quotidiane, può compiere scelte consapevoli e sostenibili. Per il benessere dell'ambiente è dunque fondamentale fare le giuste scelte, in campo alimentare, energetico e tutte le volte che decidiamo di spostarci. Scelte alimentari 1. La scelta di consumare prodotti fuori stagione favorisce l'inquinamento quale conseguenza del necessario trasporto dei prodotti, soprattutto vegetali. 2. Scegliere prodotti con imballaggi in plastica o i materiali non riciclabili comporta inevitabilmente l'aumento dei rifiuti che ciascuna famiglia produce. 3. Un massiccio consumo di carne comporta il necessario mantenimento di alti livelli di produzione negli allevamenti intensivi, con conseguente aumento di emissioni di CO2 e gas inquinanti. 3. Scelte energetiche 1. Scegliere di installare pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energia necessaria al fabbisogno familiare contribuisce a diminuire sia l'impatto ambientale sia l'importo delle bollette. 2. Se non si ha la possibilità di usufruire di energia alternativa, si possono direzionare le proprie scelte verso aziende che propongono la fornitura di energia elettrica ricavata esclusivamente da fonti green. 3. Si possono diminuire inquinamento e costi scegliendo di spegnere luci ed apparecchi non necessari e dotandosi di lampadine a basso consumo. 4. Scelte negli spostamenti 1. Prediliggere spostamenti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici 5. Scegliere di utilizzare l'automobile solo se necessario e ottimizzare lo spostamento cercando di trasportare più persone 3. Acquistare i propri mezzi di trasporto scegliendo tra i veicoli elettrici, ibridi o a basso impatto ambientale 3. Scelte negli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici 5. Scelte negli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici